Amber Heard ha confermato la sua relazione con Elon Musk, fondatore della Tesla. È dalmeno lo scorso luglio che si dice che l'attrice e il miliardario si frequentano in segreto e adesso lei, separatasi lo scorso anno da Johnny Depp, ha voluto condividere sul suo account Instagram una foto che li ritrae per la prima volta insieme. Nell'immagine la bella 31enne ha il braccio attorno al 45enne e sulla guancia di lui c'è il segno di un bacio dello stesso colore del rossetto di lei. Grazie